ciao benvenuto in questo nuovo video in questo video andremo a vedere come utilizzare pinet perché apparentemente qualche utente trova delle difficoltà allora una volta avviata la macchina virtuale dovete guardare questo indirizzo ip e scrivere http perché il chrome o il browser solitamente di default prende l'https quindi potrebbe essere che non te lo apre a meno che tu non sia registrato online come nel mio caso per esempio allora vedi che https authentification pinet lab eccetera eccetera comunque poi si inserisce il codice qui e si preme login ora nel frattempo fa login e ti faccio vedere anche un'altra cosa allora le scade di rete di default il pinet lab come anche ipng per esempio qui sono settate come nat vuol dire che questo indirizzo ip qui che vedi tipo il mio 192 168 0 218 per te potrebbe essere 192 168 122 punto qualche cosa allora io 0.18 perché quando collego pinet a internet voglio fare per esempio vpn come abbiamo già fatto con fabio eccetera eccetera ci serve l'indirizzo reale della macchina che è 0 appunto 192 168 0 quindi non posso averlo inattato se anche tu non lo vuoi avere inattato basta che clicchi qui sul tasto destro vai su setting aspetti un attimino e qui metti bridge al posto di nat muovi su bridge su entrambe le schede comunque una volta entrati qui si nota subito un paio di cose ora al di là del laboratorio in sé per sé che non ne parlerò oggi andiamo un attimo a vedere le nuvoline per primo e poi dopo vedremo le immagini allora le nuvoline le nuvoline si trovano sotto network e ne abbiamo di diversi tipi abbiamo bridge abbiamo management abbiamo cloud net allora prendiamo management che è questa e colleghiamoci un computer che eccolo qui e guardiamo chiaramente io ho il dhcp del mio router di casa quindi mi prenderà l'indirizzo ip del della mia rete che sarà 0 punto qualcosa ip dhcp spero che me lo dia can't find dhcp server non è possibile fatemi vedere una cosa management cloud quindi lo deve prendere va bene allora io diamo noi 101 slash 24 255 scusatemi 192 168 01 vediamo un attimo chissà perché il mio dhcp non mi dà l'ip comunque comunque il l'indirizzo ip è impazzito aspettate un attimo solo si aspetta devo spegnere riaccendere intanto riproviamo a dare l'indirizzo dhcp perché la cosa normale deve funzionare perché per esempio su questa management e col dhcp non è mica colibbi statico però ogni tanto il dhcp del mio router va in tilt e quindi non so perché 24 e pingo il mio gateway quindi se avessi google il dns pigherei anche google pingo tutto tutto comunque cose normali è con il dhcp che ti dà lì p ora seconda nuvolina sempre sul network si sceglie cloud nat perché la seconda nuvolina perché per esempio io qui aspetto un attimo note comunque la parte più importante è quella delle delle immagini allora note ok anche questa nuvolina qui è con il dhcp però vediamo se ce lo dà perché ogni tanto questo non ci dà il dhcp cioè questo è un problema del mio di router non ip dhcp non ce lo darà ah no ce lo dà invece quindi questo computer qui è 0 questo è 10.0.137.170 perché questo perché ti faccio un esempio questo qui che io ho cambiato l'icona ma in realtà è una nuvoletta prende l'ip della mia macchina reale perché così io posso con il mio browser posso entrare su questo firewall e fare le modifiche che voglio fare la nuvoletta invece che sta qua dietro che eccola qui a questo indirizzo è un attato perché quando configuro ovviamente il firewall faccio uscire tutti i dati da questa nuvoletta perché perché ovviamente se io qui ho 192 168 010 slash 24 e qui mi dà 0 11 due indirizzi pin della stessa classe e con la stessa subnet non possono esistere ti va il router ti dice overlapping il firewall ti dà errore e così via comunque non ci possano stare adesso passiamo un attimo a vedere le immagini allora le immagini allora intanto chiudi questo se hai bisogno delle immagini del firewall per esempio basta che vai quassù su device e scegli quella che fa per te per esempio palo alto checkpoint in questo caso qui il firewall sisco non c'è e va messo lo devi scaricare insomma da internet perché lo devi caricare ora vi faccio anche vedere come si fa a caricarlo però devi seguire attentamente i passi e lui ti installa automaticamente il ah no ma aspetta pinet lab ce l'ha il firewall asa basta che tu vada su download lab ce l'ha ce l'ha poi scendi clicchi qua su go to store poi scendi vai su sparwall e lo cerchi qui lo cerchi qui e scarichi per esempio questo lo ci clicchi sopra semplicissimo ci clicchi dici download lab e lui ti scarica tutto anche l'immagine del firewall che poi te una volta scaricata te la troverai te la troverai qui a pinet box allora te la troverai qui open cliccando con il tasto destro node e qui ti troverai asa v io le ho tutte e due ma comunque dovresti trovare soltanto uno asa v le immagini ora io qui ce n'ho alcune ho arista checkpoint il firewall palo alto riverbed e un altro firewall fortinet comunque le immagini allora prendiamo sisco iol questo se io premo save e quindi mi mette il firewall qui il router qui è un router layer 3 perché perché questa qua su è un'immagine layer 3 se io clicco qui su questo menu vedi c'ho layer 2 l2 sta per layer 2 e una versione poi layer 2 un'altra versione layer 2 un'altra versione questo è layer 3 è un router switch layer 3 poi ho questo che è un altro layer 3 però questo è un layer 2 come lo capisco che è layer 2 perché c'è scritto layer 2 per esempio io di solito uso questa e poi questo è sempre un layer 3 quindi se io clicco per esempio su layer 2 e poi clicco qui scrivo switch e seleziono lo switch seleziona e tutto come di default e lui mette lo switch che poi l'altra è la stessa cosa che è quello lì allora togliamo un attimo questi poi anche qui per rimuoverli selezioni e gli dici delete poi potrebbe essere che a volte il laboratorio non ti funziona perché il laboratorio pinet non ti si avvia ma non ti si avvia unicamente perché molto probabilmente hai troppa poca ram e hai la macchina virtuale con troppa ram assegnata il pinet di suo di default ha vediamo un po' quanti ne ha mi sembra che ne abbia 8 8 giga e 4 processori quindi se hai meno di 8 giga o meglio se non hai più di 8 giga 8 giga è troppo questa macchina virtuale per il tuo computer se non hai almeno 7 processori non ce ne puoi selezionare 4 quindi devi regolare la tua macchina virtuale a seconda delle possibilità del tuo computer chiaramente se hai 6 giga di ram metti questa a 4 giga insomma per alleggerire un po' perché altrimenti quando parte la macchina ovviamente non hai sufficiente ram per farla partire quindi pinet vedi che durante il boot sembra impallato poi cos'altro dire vediamo un po' vabbè chiaramente per creare un nuovo laboratorio basta andare qui qui sul nuovo clicchi nome add lo apri e vai con il nuovo laboratorio e questi per esempio sono alcuni dei miei per esempio qui vedi running 10 qui ci sono laboratori che stanno funzionando ora 15 10 10 ma in realtà questi non sono in accesi vedi running node 0000 ora io credo che sia buona cosa se li li stoppate cioè nel senso li fermate e poi uscite perché altrimenti ti potrebbe consumare troppa ram però quello dipende da te tuttavia se come me che per esempio ora io ho 20 giga ma se sono tutti spenti insomma la ram che prende non è poi tantissima però eventualmente è buona regola toglierli insomma se non lo usate poi cosa altro dire su pinet ma io credo che sinceramente sia tutto ehm delete perché la parte più più importante di tutti io te la faccio rivedere è quella delle immagini ehm Cisco IOL ecco questa è quella delle immagini questo è il layer 3 questo è il layer 2 dovete soltanto fare attenzione a quello che scegliete perché se chiaramente vuoi configurare un router non puoi scegliere layer 2 se vuoi configurare uno switch puoi scegliere layer 3 anche però dipende che tipo di laboratorio e di che tipo di switch hai bisogno molto probabilmente è soltanto bisogno di uno switch layer 2 anche perché alcuni comandi disponibili sugli switch layer 2 non sono disponibili sullo switch layer 3 quindi è una cosa da porci attenzione per il resto buon divertimento grazie aver guardato questo video e al prossimo chiaramente se hai delle domande manda un messaggio sul gruppo di telegram o lascia un messaggio sotto al video